Quelli che per protestare, dicono loro, non si capisce in che modo, però per protestare contro l'inquinamento globale, il caldo, eccetera, buttano la vernice su Van Gogh, si incatenano alla... è normale che uno si incazzi o no? Non so, guarda, io mi sono confrontato con questi in televisione e l'ho risolto con una battuta, c'erano questi attivisti per il clima, si chiamano Ultima Generazione, e io ho detto speriamo, che questi siano l'ultima, che non ne seguano altre, perché se questo è lo spettacolo, l'estinzione mi sembra un progetto molto più ragionevole oggi. Mi viene, vedi come funzionano, li guardo e rivedo le mie posizioni sulla natalità. Talvolta persino sull'aborto, però da grandi. Aborto post-natale, ma molto post-natale, no? No, sto scherzando, ovviamente. Guarda, da un lato dimostra che ci sono dei giovani, non è vero che i giovani sono stupidi di nuovo, o sono svogliati. Michele Serra ha scritto un libro che si chiama Gli sdragliati. Non sono sdragliati i giovani, siete voi e la vostra generazione post-santottina che li avete sdragliati, e alcuni li avete sepolti, e li avete fatti diventare una manica di depressi, che hanno paura di frequentare i licei e si disiscrivono in massa, al primo no, si spaventano, non vogliono fare. No, da una parte gli abbiamo detto, quando c'era il Forneno, che sono ciusi, sono schizzinosi, e li abbiamo derisi, li abbiamo sputtato in faccia, perché rifiutavano dei posti da fame e uno sfruttamento. Dall'altro però li abbiamo viziati oltre misura, perché coesistono entrambe le cose, perché non c'è la mezza misura. Ti dicono, devi fare il cameriere d'estate, giusto, sacro santo, vai a lavorare d'estate. Però poi ti dicono anche, sai che c'è, che non avrai mai niente di meglio nella tua vita che quello. E allora questo no. Poi quando scendono, diciamo, non fate niente, poi quando scendono in piazza, perché ne hanno voglia, perché sono giovani, ne hanno voglia di fare casino, però guardano le cose su TikTok, evidentemente hanno famiglie che faticano a dialogare con loro, ma poi ci sta il conflitto sociale, per carità. Si basano su cose sbagliate, giustissima la legge che li punisce. Poi a un certo punto, insomma, se i casi saranno tanti, sarà anche giusto fare un'amnistia, perché uno quando è giovane è cretino, il reato di cretinaggine, insomma, dopo un po' bisogna essere indulgenti. Però purtroppo lì dentro ci sono anche degli adulti, e io peggio di questi, che almeno rischiano le multe loro, benché facciano dei danni, io trovo molto peggiori quelli che scrivono, sì ma in fondo bisogna capirli, ma che devi capire? Bisogna ascoltarli, ma che devi ascoltarli? Non devi ascoltarli. Dicono stupidaggini false e rovinano generazioni. Adesso esiste persino il fenomeno della eco-ansia. E si vede. A me è capitato di vedere questi che sono, non riesce a dialogare, perché sono invasati. E io l'invasato, il fanatico, per il fanatico ho quasi una forma di stima, no? Per l'invasamento religioso. Perché comunque è una forma di, per quanto spaventosa delle volte, è una forma così, di eroismo, a suo modo. Questi, i rivoluzionari, quelli che, i terroristi, gente che ha fatto delle cose abominevoli, qualcuno di loro l'ha fatto nel nome di un ideale, sbagliato, ma era pur sempre un ideale. Io vedo che tanti di questi ragazzi lo fanno per paura. E non per paura che il mondo sia distrutto, per paura che non avranno la loro fettina di torta. Per paura di perdere il benessere in cui sono vissuti. Che domani si alza la temperatura di un grado e io non potrò più vivere come avete vissuto voi. Si lamentano con i genitori, voi ci rubate il futuro. Ci rubate il futuro. Ma se ti mantengono, che ti rubano il futuro? Non lavori, pagano il tuo welfare, cosa stai dicendo? Mi rubi il futuro perché dovresti garantirmi, rinunciando tu a delle cose, di fare la stessa vita più o meno agiata che vivo ora. E la prospettiva di perdarla mi terrorizza. Perché tutti intorno mi dicono che non avrò un lavoro, non avrò la pensione, che il mondo finirà. E questo cosa produce? Produce quello che vediamo. Una generazione depressa, demotivata, con propositi suicidi che non si riproduce più. Con, però, tante eccezioni. Perché poi quando gli parli ai ragazzi, gli dai degli stimoli, cavoli, cavoli si rispondono. Io faccio lezioni a un piccolo corso universitario, lavoro con dei ventenni, ne vedo tanti. Se li spingi e gli dai delle cose su cui ragionare, non è vero che sono sdraiati. Ci si mettono. Cercano delle cose. Chiedetevi perché i vostri figli, i vostri nipoti guardano serie televisive come Gomorra. Che cosa ci trovano dentro? Ci trovano tutte le cose che l'ondata post 68 gli ha tolto. La disciplina, il senso della comunità, dell'onore, il coraggio, la sfida, l'autorità, la cultura fisica, la violenza che noi abbiamo cercato di far finta che non esistesse. Purtroppo per il male. Però la trovano lì. Apprezzano l'autorità. Apprezzano uno che sa essere severo ma giusto. E quindi una speranza in fondo c'è. Quelli sono dei dementi. Però, poveracci, non è nemmeno colpa loro, colpa di chi ce li ha fatti diventare. Grazie a tutti.